Qual è il framework di riferimento? Quindi con un sistema ad esempio di identità unico, con un login unico che permetta di entrare in tutti i servizi e permetta di usarli con una soggettiva molto più simile ai servizi contemporanei e meno fatta di tanti siti web sconnessi fra loro. Qual è il progetto? Tende chiaramente a portare finalmente molti più cittadini a utilizzare la rete come metodo per snellire le pratiche quotidiane, la loro relazione con il paese, gestire la propria vita nella parte che spesso e volentieri, quella burocratica, ha una complessità. Quindi cerca di togliere tutta una serie di incarichi quotidiani o mensili appunto per renderli più semplici e liberare tempo e potenziale per fare delle cose più costruttive per il proprio tempo libero, per la propria vita lavorativa.